Gesù disse, lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non vi entrerà. Guai a coloro che maltrattano i bambini e li sfruttano per fini egoistici e perversi. Dio è amore onnipotente. Preghiamo per i bimbi affinché possano crescere sani fisicamente e spiritualmente. Che nessuno osi fare loro del male, soprattutto con l'inganno camuffato dal finto bene. Coloro che lo mettono in atto, se non si pentono, se la dovranno vedere sicuramente con la giustizia e la collera divina. Grazie.